Sai già chi sono, vero? Sì, un morto che cabina! Sono il fratello di Elia, Martell. E sai perché sono venuto in questo putrido masso di merda di città? Per te. Voglio sentirti confessare, prima che tu muoia. Tu l'hai stuprata, l'hai ammazzata, hai ucciso i suoi figli. Avanti, confessa e facciamola finita. Dillo! Tu l'hai stuprata! L'hai ammazzata! Hai ucciso i suoi figli! Tu l'hai stuprata! L'hai ammazzata! L'hai ucciso i suoi figli! L'hai! Tu l'hai stuprata! L'hai ammazzata! Hai ucciso i suoi figli! Aspetta, stai morendo! Oh no, 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 non te la puoi cavare così! Devi ancora confessare! Dillo! Dì il suo nome! Elia Martell! L'hai stuprata! E' ucciso i suoi figli! Elia Martell! Chi è che diede quell'ordine? Chi è che diede quell'ordine?! Dillo il suo nome! L'hai stuprata! L'hai ammazzata! E' ucciso i suoi figli! Del... Dillo! Del suo nome! Dillo! Elia Martell! Ho ucciso i suoi figli! Poi l'ho stuprata! E le ho sfondato la testa in questa moda! Gli dèi hanno espresso il loro volere! Tyrion Lannister, in nome di Red Tommen della casa Baratheon, primo del suo nome, Ordino che tu sia messo a morte! Oh!